Questa sera è il secondo gala dinner di We The Italians, We The Italians è una media company italiana che si rapporta con gli italo-americani e gli italiani che vivono in America. Anche questa sera abbiamo ospiti il board della National Italian American Foundation che è la più importante associazione di italo-americani, abbiamo moltissimi ospiti istituzionali, imprenditoriali, artisti che amano gli Stati Uniti, questa è la riunione annuale conviviale di coloro che credono nei rapporti fra Italia e Stati Uniti e vogliono implementarli e crescerli. Noi premeremo quattro italiani che hanno fatto grande il nome dell'Italia negli Stati Uniti che sono Giulia Silvia Ghia, Dario D'Este, Gioia Rau e Gian Piero Massolo e poi ci sarà un premio alla comunità italiana del New Jersey perché noi da quest'anno ogni anno premiamo una comunità italiana di uno dei 50 Stati e c'è il Presidente della Commissione Statale per l'Italian Heritage nel New Jersey, Robert Tibiase. Grazie mille e per favore di un grande applauso, tributo di un grande applauso. Il mio nome è Gioia Rau, sono un'astrofisica presso il NASA Goddard Space Flight Center. Sono all'estero ormai da 12 anni, più di 12 anni e ovviamente qui sono le mie origini. Devo dire che la scuola italiana forma delle eccellenze che poi si trovano in tutto il mondo e che sono poi apprezzate in tutto il mondo. I am humbled to accept this for the commission, the New Jersey Italian Heritage Commission. We go back over 20 years and our founding fathers, they would be so happy and so proud to see that I'm here in the eternal city, in Rome, being recognized for the award for our commission, chair of our education committee. I share this with all the commissioners.